Il capoluogo si è dotato di una nuova segnaletica turistica che oltre ai luoghi di interesse storico e artistico mette in evidenza i punti di informazione e con il QR code rimanda al sito istituzionale del comune per aggiungere dettagli e conoscenza sull'Aquila e sul suo territorio. Un'iniziativa che dà il senso di una città che sta recuperando la sua normalità. Io l'ho sempre detto, non possiamo aspettare di aver ricostruito l'ultima casa, riaccesa l'ultima luce per non preoccuparci del nostro arredo urbano e per dare l'idea che questa città non è più in emergenza ma riconquista pezzi di territorio e lo fa attraverso anche la valorizzazione che ciò di più bello ha che è il suo patrimonio artistico, architettonico, culturale. Secondo me è un posto diventato, ridiventato, un posto interessante. Qui per esempio c'è l'auditorium di Renzo Piano, poi siamo andati a vedere la basilica di Collemaggio e poi soprattutto la curiosità era questa nuova succursale del Maxi che andiamo a visitare nel pomeriggio. Perché mio marito era stato qua quando c'era stato il terremoto, 11 anni fa. Sono volontario della protezione civile e allora ci ho detto, intanto che siamo qui vicino andiamola a fare un giro a vedere se hanno sistemato tutto, anche per ricostruito, per vederla ancora. Sui 150 cartelli installati in ogni snodo della città, 3 di essi presentavano alcuni errori. Il dato non è sfuggito al dibattito politico e l'onorevole Pezzopane, deputato del PD, ha sottolineato prontamente l'errore. L'amministrazione dunque in mattinata ha fatto rimuovere i cartelli non corretti per farli sostituire e il sindaco risponda alla polemica. Come si suol dire può sbagliare solamente chi fa e mi fa sorridere che l'ironia via social sia arrivata esattamente da chi non ha fatto nulla per questa città e ha tralasciato soprattutto questo aspetto fondamentale che è il miglioramento dell'immagine di questa città che è percepibile dalle migliaia di persone che sono all'Aquila, dai turisti che girano, che vengono da tutte le parti d'Italia e da tutte le parti d'Europa in alcuni casi del mondo, la ricettività alberghiera ed extra alberghiera scoppia di prenotazioni.